Fermi subito, non scioppate le skin del nuovo aggiornamento di Spongebob su Brawl Stars E' uno scam, ci perdete un sacco come un sacco di verdoni In questo video vi spiego perché, ma prima di iniziare mi raccomando un bel like, iscrizione e campanellina E partiamo subitissimo! Vi ricordo che ogni sera sono in live sul sito Viola, kiri-bust alive, giochiamo a Squadbusters e a Brawl Stars Vi aspetto Ma eccoci qua sul nostro carissimo Brawl Come vedete, come sappiamo, dal Krusty Grab, questa nuova sezione che c'è dentro Squadbusters Adesso noi possiamo andare a sbloccare alcune skin a tempo limitato Quelle tema Spongebob e altre skin in offerta con alcuni pacchetti, star drop, emoticon Quindi nel Krusty Grab troviamo sempre e comunque delle offerte, delle cose che convengono Anche se ragazzi, anche se abbiamo la possibilità di ricevere degli sconti Vedete la skin del Plankton di Beryl? In questo caso la skin non è in offerta, vedete che è una skin a prezzo pieno Ma potrebbero capitarci skin come la mega offerta di Byron In questo caso Byron dovrebbe costare in totale 900 bigliettoni, 980 bigliettoni Ma ce lo passa in offerta a 735 E voi direte, vabbè, kiri, ma è solo per Byron Attenzione no Attenzione perché tutte le skin del nuovo aggiornamento di Spongebob Potrebbero arrivare durante il corso dell'aggiornamento a prezzi scontati E ora vi mostro alcune immagini che confermano questa mia tesi e questa cosa Attenzione perché a fine video vi dico una cosa assurda Una cosa assurda perché potete ottenerli pure gratuitamente Ma ne parliamo dopo Vi mostro ad esempio la prima immagine Qua abbiamo l'offerta di Mr. Krab Ok ragazzi Attenzione che contiene la skin di Mr. Krab Dick 10 star drop random 1 star drop leggendario Un nuovo spray Il power mill E la skin Ok? Tutto insieme Invece di costare 8700 bigliettoni Lo passano in offerta a 6525 Per farvi capire costa meno di questa offerta E ci sono il triplo delle cose Quindi se proprio dovete shoppare le skin Aspettate un attimino prima di acquistarle Ve le dice Kiri queste cose Per tenervi Fortunatamente ancora in molti di voi hanno pochi bigliettoni Quindi non dovreste averne ancora sprecati Adesso vi mostro un altro esempio Sempre con Mr. Krab Ad esempio qua abbiamo un'altra offerta di Mr. Krab Come vedete Sempre la skin Invece di costare 9.375 bigliettoni Abbiamo 3000 bling L'hyper charge random Un player pin E poi un power mill Ok? Tutto scontato a 7500 Ok? E ci sono varie cose Ad esempio abbiamo le offerte mega Le mega offerte Che sono quelle lì che scontano di più Abbiamo le super deal Che sarebbero le offerte medie E ci sono varie tipologie di offerta Ora vi mostro altre due Attenzione Mega offerte Ad esempio qua abbiamo Sandy Jesse L'offerta di Sandy Jesse Ragazzi con la sua skin 5 star drop random Un hyper charge Un nuovo spray E un power mill Più la skin ragazzi Quindi tutte le modi Con cose letteralmente assurde Modico prezzo Invece di 8880 verdoni A 6660 verdoni E questa è una cosa assurda Cioè ragazzi Sono prezzi che Cioè ragazzi Se ve la giocate bene Se vi giocate bene I vostri verdoni Se non li spregate Va a finire che ci prendiamo Tutti quante le skin Tutte quante le skin Senza shoppare i soldi reali Quindi solamente con i soldi Farmati dal gioco E diciamo che sono Offerte interessanti Davvero davvero buone Ora vi mostro un'altra mega deal Un'altra mega offerta Questa qui è pure molto buona Un hyper charge random Quindi completo E poi un power mill Potenziato E questa Altra offerta Invece di costare 5400 verdoni Ti costa 3780 verdoni Quindi ecco Qua la vediamo pure Un'offerta simile Invece di costarci 400 verdoni Ci costa 280 verdoni Stessa cosa pure qua Abbiamo le super offerte In breve Possiamo racchiudere Le tipologie di offerte In Offerta normale Ok Le offerte normali Sono queste qua Nuova offerta In super offerta Che sono quelle lì Viola E sono scontate Ma non troppo E poi abbiamo Le mega offerte Che sono quelle offerte Che ragazzi Vi cambiano totalmente Il gioco Perché vi prendete Skin up Assistimo prezzo Pacchetti molto Meno costosi E ogni due giorni Praticamente Se ogni due giorni Avremo un re-roll Del negozio Importante Davvero Davvero Importante Ora ragazzi Noi ci facciamo una piccola partita Per guadagnarci Un po' di Bigliettoni In sopravvivenza In tre E poi A fine video Vi mostro una cosa Assurda Ragazzi Vi giuro È assurdo Prendo Lily E giochiamo Ditemi nei commenti Se a voi è capitata Qualche offerta del genere Delle mega offerte Quelle lì Dove vi sconta Praticamente tutto A me ancora no Ma se dovesse capitare Va a finire Che me la piglio Me la piglio Per forza Che poi le skin di Spongebob Ragazzi Sono bellissime Sono stupende Eccoci qua Nella nuova modalità Dai Perché con lì sta fermo Mamma mia C'ha Personaggio gigante Meg Su via Che bella skin Che ha No no è il topolino Ragazzi Il topolino Io l'odio Vi giuro Meg Che stai facendo Meg Meg Niente M&M Sei morto Ragazzi Meg Ma Meg È tipo Il clown Più grande Del mondo E mi hanno pure Killato il compagno Cioè ragazzi Sono rimasti in due E il mio compagno Dall'altro La tua è la mappa Ma che è successo Ma perché tutti a me Capitano i bot ragazzi Ultimate ninja Ti prego Fatti una vita Topolino Lasciateci stare Lasciateci stare Topolino Ultimate ninja Ok spanato Meg Dai Meg Puoi tornare operativo Riesci a non laggare Meg vuole proprio morire ragazzi C'è tipo il bot finale Quel personaggio No 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 Siamo rimasti in quattro Ma io non Ti prego Ti prego Abbiapita di me No no Fate finta Di non aver visto Niente Se mi trovo I botti squadra Io Come posso giocare Facciamo un duello Duello No paura A caccia di meduse Con Larry E Lowry Lowry Abbiamo il modificatore Ok sono con Dennis Ed Eternal Sembrano essere forti Perché hanno il pass Quindi bene Vai Che cosa fai Oddio quella lì ha una spatola in mano No no Bibi 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 Io mi prendo le medusine Oh tutti gliel'abbiamo killati Bene Tre meduse prese Posto qua me ne piglio un'altra Mamma mia ragazzi Mi chiamavano sponge Bobby mi chiamavano Bibi No se Bibi Se Bibi mi entra qua Io sono devastato Ok Vai Dennis Ne prendo una No oh oh Angelo mi ha devastato ragazzi Come ne hanno sette Ma dove le hanno prese Ma dove le hanno prese Quelle meduse Che è sta cosa No no hanno le hack ragazzi Hanno le hack Hanno le hack Hanno le hack Hanno le hack No raga Malissimo malissimo Ma c'è quel bo C'è quel bo Quell'angelo Dai facciami seri Facciami seri per carità Tendete quelle due meduse Piatele Piatele Chillate a Bibi Chillate a Bibi Che buoni Dai Ti prego Ti prego Ma perché Ma perché Ma perché Ma perché Non mi capitano i team buoni Dici che è colpa mia Può essere che è colpa mia No 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 Sì sì No 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 ragazzi Sto tiltando No Bibi 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 Ma Bibi Devi esplodere Devi esplodere Bibi Mamma mia Mamma mia che fastidio Corvo dove vai Niente Ha fatto bene Scherzavo Niente niente Non ce la facciamo 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 Questa è la volta buona Pighiamocela tutte Tutte mie Tutte sono morte ragazzi Vai Meg Vai Meg Buono 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 Abbiamo startato bene Abbiamo startato bene Certo io muoio sempre Però è una tecnica Vi assicuro che è una strategia È una strategia per vincere Vi giuro È una strategia per vincere No 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 Spike Spike Che posto Chigliamo qua Rosa Attento Mandy Mandy Candy Mandy Cante Oddio Easy Lowy Clone Posto Gemello Buonissimo Mandy Chillata Rimasto gas Chillato Non ho fatto niente in realtà Vai Rosa No Rosa Rosa Su via Ok ne mancano due Tre Posto È il nostro momento È il nostro momento Io sono morto Ragazzi muoio sempre Però è una strategia Fai chiedere all'avversario Di essere scarso Per poi Devastarli Capito No Mandy Posto Posto Era tutto programmato Vi faccio perdere tempo Spike scappa Spike scappa Non ce n'è bisogno A che lato Spike Voglio richiavare tipo 5 Ok pro max Tipo l'iPhone Ci amistare Ok Va bene va bene Li distraggo Bene Easy win First try Momento vittoria Bene Più 8 onesto Più 100 bigliettoni Easy Non ci credo ragazzi Mitico Star drop mitico Cosa mi esce Vabbè 200 O mo è vicino Mo è molto vicino Ora per concludere Vi mostro Un'immagine assurda Infatti potete ottenere Le skin gratuitamente Se avete un account Fortunatissimo ragazzi Può capitarvi di trovare La skin Non so di Plankton Di Mr. Krab Di qualsiasi personaggio Gratis Più uno star drop leggendario Più 10 star drop casuali Un power mill Una reazione Cioè tutto gratis Come può essere questo Dovete avere una fortuna gigantesca Un culo che c'è gigantesco ragazzi E potete ottenere tutto quanto Quindi controllate Vedete in tutti i vostri account Se ne avete di più Potreste ottenere cose gratis Quindi dite ai vostri amici Mandate gli sto video E dite Oh vedi che puoi ottenere cose gratis Senza fare niente Controllare non fa mai male Ve lo assicuro Ovviamente a Kiri Non gli capita mai niente di gratis Vediamo nel mio secondo account Non credo che mi uscirà Vediamo ragazzi Vediamo So curioso Super offerta Super offerta Ecco ragazzi Non ci credo Eccole Ecco alcune offerte Ecco così vi do pure la prova E' bello rivederti Che è successo Oddio Mentre non c'eri Che è Tu fanno le cose Quando non ci sono io ragazzi Che è sta cosa Mi potenziano i personaggi da solo E basta Va bene No non voglio giocare Caro Cosa mi esce Un bling Due venti bling Ho altre cose gratis Ma perché Ma tipo non gioco da un po' Oddio quante cose Dicevo Mr.Krab Scontatissimo Sono 10 star drop pure Lei pure molto scontata Qua nuova offerta Vediamo cosa c'è gratis Spieghiamo tutto Frencone pure Assurdo Prendiamoci power mill Vediamo cosa mi esce ragazzi Le polpette Le polpette di plankton Bellissime Detto ciò ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Un bel like Iscrizione e campanellina Guardate i video che sono appena partiti Qui accanto Che sono più bello dell'altro Vi aspetto stasera Live su twitch E noi ci vediamo in un prossimo video Di brawl stars Ciao ciao